da massimo arredamenti parte la stagione delle grandi occasioni vieni a visitare il nostro show room resterai affascinato dall'eleganza dalla bellezza e dalla versatilità dei nostri mobili massimo arredamenti il negozio numero uno del mobile per qualità convenienza esperienza professionalità ci trovi a satriano marina incontrata la ganosa telefono 0 9 6 7 52 12 65 338 19 38 0 69 da massimo arredamenti super offerta lancio da non credere a euro 3.990 cucina lineare da 3 metri e 60 completa di elettrodomestici con frigo combinato lavastoviglie piano cottura a 5 fuochi e colonna forno tavolo allungabile fino a 210 centimetri con 6 sedie parete attrezzata da 3 metri camera da letto matrimoniale composta di armadio 6 ante specchio come due comodini letto con rete ortopedica e materasso ortopedico anallergico colori a scelta fino ad esaurimento scorte